Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale la prova di Laici dal punto di vista del Follow Me. Perché? Perché Laici ha introdotto il Follow Me, oltre all'ActiveTrack e nella sua versione che attualmente è ancora beta, quindi se l'acquistate non è ancora compatibile col Mavic Mini. Mi raccomando, è ancora in versione beta, quindi solo chi è beta tester ha questa versione e adesso siamo qua per testare il Follow Me, perché ultimamente hanno rilasciato due o tre aggiornamenti della versione beta in cui va testato il Follow Me. L'ActiveTrack, ve l'ho detto, non funziona bene, perde spesso il soggetto, avete visto il video che avevo fatto, non è ancora neanche stato migliorato da quel punto di vista, comunque ve l'avevo portato sul canale e vi ho fatto vedere come ci stavano provando, ma non sono riusciti, non avendo la possibilità, accesso all'SDK, di avere un ActiveTrack nativo, creandolo virtualmente con il telefono e via dicendo, quindi tutto il discorso che avevo già spiegato negli altri video, non funziona tanto bene, perde spesso il soggetto. Mentre il Follow Me, ragazzi, funziona, funziona, funziona davvero bene. Infatti oggi lo proviamo e vi faccio vedere come, seguendo il radiocomando, perché nel Follow Me non segue più il soggetto, quindi lui non tiene inquadrato il soggetto o una bicicletta piuttosto che un'automobile, no, nel Follow Me lui segue il radiocomando, ovviamente attualmente è disponibile solo per Mini 1, quindi la prima versione del Mini, il Mini 2 non è ancora compatibile con le sue SDK, con le applicazioni terze parti, quindi utilizzerò il Mavic Mini 1, poi quando le SDK saranno rilasciate ovviamente verrà introdotto anche il Mini 2 come compatibilità in tutte queste applicazioni terze parti, che sia questa applicazione, cioè che sia l'ICI, che sia un'altra applicazione per il WePoint, cioè attualmente il Mini 2 non è compatibile, però si sta portando avanti il tutto perché poi lo diventerà e tutto verrà portato ovviamente anche sul Mini 2 e devo dire ragazzi che questa funzione Follow Me seguendo il radiocomando è davvero interessante. Infatti non perde mai, non dico il soggetto perché il soggetto è inquadrato virtualmente, cioè il soggetto è nell'inquadratura, ma lui è sempre il radiocomando che segue e lo fa davvero davvero bene. Secondo me questa funzione dà un qualcosa in più all'applicazione laici rispetto a quella di DJI e soprattutto una funzione che è ben fatta e quando una funzione è ben fatta vale la pena acquistare l'applicazione e utilizzarla e provarla, anche se attualmente, ve lo dico, non è ancora nella versione al pubblico, quindi arriverà, però attualmente no. Però ci tengo a farvi vedere come funziona bene e come è bello vedere il Mavic Mini eseguire questo Follow Me. Quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e iniziamo il test del Follow Me di Laici. Ok ragazzi siamo pronti a testare la funzione Follow. Allora decolliamo. Via. Perfetto. Allora andiamo a girare il Mini. Allora entriamo nel menu, selezioniamo Follow, ok, poi andiamo sul simbolo con gli ingranaggi qua a sinistra, qua possiamo selezionare l'altezza e la distanza che vogliamo che abbia il drone da noi o meglio dal nostro controller, che poi è più o meno la stessa cosa perché comunque il controller è nelle nostre mani. Quindi lasciamo dieci metri d'altezza, una distanza di cinque metri e lui terrà questa altezza e questa distanza da noi. Poi abbiamo altre funzioni, modalità prua, nord o rotta. Io lascio rotta che è proprio la funzione per farmi seguire da dietro diciamo. Poi altezza del soggetto andiamo a mettere un metro e settanta. Perfetto. Poi qua possiamo decidere se vogliamo che il soggetto di un metro e settanta sia dal suolo o dal controller in su perché come vi ho detto è il controller il riferimento. Poi tutto il resto lasciamo così come sono impostate facciamo avvia. Qua ci dice di stare attenti perché comunque che lui non ha il senso di arrivamento degli ostacoli quindi se c'è qualche ostacolo lui ci va a sbattere. Quindi fate attenzione quando attivate questa funzione. Facciamo via e lui va all'altezza di dieci metri come gli abbiamo impostato. A questo punto non resta che farci vedete che si va a posizionare. Perfetto. Adesso vedete che lui in questo momento mi sta vedendo meglio sta vedendo il mio radiocomando. Ovviamente tutto gira intorno al radiocomando quindi vedete come mi sta seguendo bene. Cioè io ho il mio controller in mano e lui mi sta seguendo. Io non sto toccando assolutamente niente. Ok e per questo è una funzione che secondo me va fatta tenendo il drone più in alto e più distante da noi. Quindi lui avrà una visuale di campo maggiore e riuscirà a tenerci inquadrato sempre meglio. Però vedete che una volta comunque che gli abbiamo dato una distanza e manteniamo quella distanza lui tiene inquadrato il soggetto. Anche se secondo me adesso abbasso un po'. Ecco lo vedete che sta arrivando. Vedete? Come vi ho detto se il drone sta in alto fa meno fatica a seguire il soggetto. Quindi vedete che sto scendendo giù dal dirupo. Vado un po' di corsa. Basso la telecamera. Aspettate. Perfetto. E vediamo se ci segue anche correndo. Vedete che anche correndo ci segue. No questa funzione follow devo dire che funziona davvero bene. Hanno rilasciato vari aggiornamenti beta e devo dire che si comporta davvero bene. Non è l'active track perché comunque come vi ho detto non tiene soggetto ma tiene il controller. Infatti se io ragazzi metto il controller qua in terra ok e me ne vado il drone vedete rimane fermo in zona del controller. Se io riprendo il controller lui ricomincia a seguirmi. Tutto gira intorno al controller però questa cosa devo dire che va bene nel senso che lo fa davvero davvero bene. Adesso proviamo a cambiare le impostazioni. Lasciamo sempre 10 metri d'altezza. Mettiamo una distanza però di 10 metri da noi. Ok. Poi selezioniamo nord anziché rotta. Facciamo avvia. Vai. Quindi lui adesso ha iniziato la sua nuova diciamo posizione e vediamo il suo comportamento. vedete che il drone si muove anche lateralmente lasciando nord eh. Anziché tenere sempre la rotta con diciamo il muso del drone. Però guardate cioè io non sto toccando e lui arriva eh. Adesso corro un po'. Adesso mi avrà un fiatone incredibile perché le mie doti atletiche sono veramente penose. Quindi guardate come ci segue. Ovviamente state sempre attenti ad alberi, piante, pali e via dicendo perché lui non li vede. Quindi c'è il rischio che ci sbatta conto. Però avete visto che già poi mettendo il drone un po' più lontano da noi come fa meno fatica a tenerci inquadrati ovviamente. Proviamo a scendere d'altezza. Cambio impostazioni. Scendo a 5 metri d'altezza. Perfetto. 10 metri di distanza. Avvia. Vai. Vedete che lui scende a 5 metri d'altezza ma sempre a 10 metri da noi. Quindi noi facciamo la prova. Vedete? E se io gli vado incontro lui va indietro perché comunque mantiene sempre distanza da noi eh. Vedete? Però state sempre attenti che ci sono piante pali e cose del genere intorno a voi perché lui ci va a sbattere. Via di corsa veloce. arriva. Arriva perché il controller è nelle mie mani. Quindi ragazzi adesso faccio atterrare il mini poi tiriamo bene le conclusioni di questa funzione che ripeto non è disponibile ancora al pubblico è in versione beta però con gli ultimi aggiornamenti della funzione follow me devo dire che è davvero eh davvero performante. L'activ track no non ci siamo ma il follow me ragazzi funziona davvero bene. Quindi interrompo la missione faccio atterrare il mini. Bravo mini. Allora ragazzi eh adesso metto via un attimo tutto sto casino che c'ho qua e tiriamo le conclusioni eh di questa funzione follow me. Allora ragazzi eh cosa ne pensate? avete visto che figata pazzesca? Cioè secondo me funziona benissimo non non si ferma mai il drone continua sempre perché comunque lui non perde mai la connessione dal radiocomando perché non la perde perché comunque è alla distanza e ad un'altezza che la connessione tra i due dispositivi c'è sempre e avete visto come lo fa bene. Ovviamente più il drone è vicino e più è basso più farete fatica a rimanere nell'inquadratura del drone perché lui non inquadra il soggetto. Cioè il soggetto è inquadrato perché gli avete puntato la videocamera però avete visto che alla fine ci va vicino nel senso che il soggetto visto che il radiocomando ce l'avete in mano voi bene o male è sempre inquadrato. Poi se state a una distanza di cinque metri ad un'altezza magari di dieci o via dicendo vi allontanate un po' comunque non state appiccicati siete sempre comunque nell'inquadratura. E secondo me quando magari andate a camminare in montagna perché comunque da utilizzare in zone dove c'è tanto spazio perché comunque lui non ha sensore anticollisione quindi se c'è un palo della corrente come vi ho detto nel video o un albero o un ramo o quello che è lui ci va a sbattere contro. Quindi va utilizzato in campo aperto dove c'è tanto spazio quindi camminate in montagna ve lo mettete magari a venti metri d'altezza e vi segue nella passeggiata cioè ci sta in tante situazioni soprattutto perché lo fa davvero bene. Spero che l'avevi informato e vi fatto vedere come sarà la funzione dei laici che arriverà al pubblico nella versione quando sarà definitiva per il mini. Spero che tutto questo vi sia piaciuto, spero che vi sia stato interessante. Se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante anteprime, tante cose che su YouTube magari non arrivano quindi seguitemi su Instagram e se vi va iscrivetevi al mio canale Tregamo Offerte per sostenere il canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube e non perdevi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao! Ciao!